Cari amici e cari amiche ben ritrovati, rispondo velocemente, un video breve, a quelle persone che hanno lecitamente mosso delle obiezioni sul fatto che il cloud seeding, quindi l'inseminazione delle nuvole, del quale ho parlato nel video precedente, è differente dalle irrorazioni che quasi quotidianamente sui nostri cieli italiani, ma non solo italiani, avvengono tramite le famose scie chimiche, delle quali si è sempre parlato tanto e si è tanto dibattuto. Però il principio non è tanto la tecnica del cloud seeding o delle irrorazioni che vengono fatte tramite le scie chimiche, è che in entrambi i casi vi sono delle contaminazioni da parte dell'uomo di elementi naturali, quali il clima, quali le nuvole, che non dovrebbero essere contaminati. Questo mettersi al posto di Dio della creazione della legge naturale è profondamente diabolico, è la matrice che è sbagliata. Come è sbagliata? Per quanto riguarda le manipolazioni genetiche, l'eugenetica che prima è stata sdoganata da Hitler e poi applicata nella scienza con l'H moderna, scienza che in realtà non è più scienza ma è tecnica, perché come dice il noto scienziato Zichichi si è confusa la scienza con la tecnica o perlomeno volutamente si è trasformato il concetto di scienza, quindi che deriva da conoscenza, lo si è trasformato in scienza applicata, nel senso che se è possibile farlo tramite la tecnica allora è lecito. Ma ricordiamoci cosa è successo nel passato e ho citato anche Hitler, gli esperimenti che venivano fatti sugli ebrei, solo perché era possibile, allora Hitler diceva che era lecito o riteneva essere lecito, facevano anche esperimenti esoterici, informatevi bene, non soltanto esperimenti pseudoscientifici. Quindi tutto ciò che sta avvenendo, indipendentemente che sia inseminazione attraverso dei sali, per esempio, o attraverso dei metalli pesanti, che sia fatto affin di far piovere laddove poverini non hanno l'acqua, o che serva a creare una nuova arma militare, già utilizzata molto probabilmente nel mondo, ciò non cambia nulla, non cambia la sostanza, che questa è manipolazione derivante dal maligno, deriva da una mente perversa, da più menti perverse che si sono fatte plagiare, o perlomeno hanno venduto l'anima al demonio, per, in tutti gli ambiti chiaramente della nostra società, avere un potere terreno che si concretizza non soltanto nei denari, nei soldi che si possono fare, tipo vedete le aziende farmaceutiche, perché poi alla fine tutti dicono è una questione di soldi, non è una questione di soldi, i soldi ce li hanno già, questi vogliono il dominio sulla natura, il dominio sull'uomo, questa è la verità. Apriamo gli occhi per favore.